Mi chiamo Raffaele Couto, sono unestrista di moda a Svizzero e ho fondato il mio brand nel 2017 il cui atelier a Zurigo. Mi occupo principalmente di moda sostenibile, quindi di quello che è l'upcycling, il riuso di capi d'abbigliamento già utilizzati oppure che sono invenduti e di trasformarli con delle tecniche tradizionali. Al momento sono qui a Venezia come professora all'OIU per il corso di moda, insegno fashion design, con i ragazzi per la loro sfilata di diploma. Abbiamo fatto un workshop legato all'upcycling con ogni studente dove apportare il materiale di scarto che arrivano a casa e poi insieme l'abbiamo trasformato nel corso di due giorni. Il workshop è tenuto in collaborazione con l'Istituto Svizzero e la sfilata era appunto al Palazzo Trevisan, quindi il Palazzo Trevisan si è anche trasformato come sfilata e backstage per presentare le collezioni degli studenti e la collezione è stata anche presentata su Vogue Italia. I primi progetti che ho sviluppato con il mio brand sono stati supportati da Proilbezza per sviluppare il processo legato all'upcycling, alla comunicazione e promozione del brand, essendo comunque dei progetti innovativi. Mi chiedevano di ottenere un'altra serie di contatti in Svizzera che prima non erano presenti soprattutto per la promozione e per la produzione dei capi d'abbigliamento. Al momento sto lavorando a diversi progetti che coinvolgono anche l'Istituto Svizzero che verranno poi presentati nel corso dell'anno e l'anno prossimo.